Modula è un'azienda manufatturiera made in Italy che produce sistemi di stoccaggio verticali per diverse tipologie di merci e applicazioni ai settori industriali. Dal 2017 ha abbracciato un'ottica di produzione digitalizzata e lean che mixa in ottica assembly to order un sistema push con un sistema pull. In pratica nonostante il prodotto sia standardizzato viene customizzato per il cliente e per questo vengono congelate le settimane produttive a seconda di quello che dobbiamo produrre. Da qualche anno abbiamo introdotto anche la figura del Kaizen Manager che si occupa di ottimizzare ed efficientare tutti i processi in azienda, quasi 100 all'anno con dei picchi anche di 30 contemporaneamente. Modula è un'azienda fortemente innovativa dove le competenze tecniche la fanno sicuramente da padrone. È anche un'azienda molto giovane, cresciuta tanto negli ultimi anni e che predilige anche per i propri dipendenti una crescita professionale all'interno. Questo ha comportato che molti nostri dipendenti bravissimi tecnici siano stati promossi a ruolo di manager e quindi si sono trovati a dover gestire persone, a dover gestire problematiche non prettamente tecniche. La formazione sulle soft skills è stata fondamentale in questo senso per fornire loro gli strumenti per affrontare queste nuove sfide e farli crescere personalmente e professionalmente. I piani formativi sviluppati recentemente, anche grazie alla collaborazione di fondi impresa, sono stati fondamentali per dare alle persone gli strumenti per poter gestire il loro ruolo in azienda. In particolare abbiamo puntato sulla qualità della docenza e sui contenuti che sono stati soprattutto orientati ad una gestione manageriale delle persone, alla gestione dello stress, alla gestione del tempo. Tutti i contenuti che sono stati apprezzati moltissimo dalle nostre persone che hanno trovato nel concreto delle applicazioni in breve tempo. Questa è stata la forza dei nostri piani formativi che ci ha permesso di avere una qualità migliore nei processi e anche nella vita di questi nostri collaboratori. Dei corsi di formazione a cui ho partecipato ho apprezzato soprattutto la preparazione dei docenti ma anche la loro grande capacità di coinvolgerci e di farci applicare quelli che erano i concetti teorici a situazioni lavorative concrete. Questo secondo me a mio parere è molto importante perché ha fatto sì che i concetti mi rimanessero impressi anche anni dopo i corsi di formazione. In particolare ricordo un corso che è stato molto utile nell'ambito della mia posizione lavorativa che è il corso di People Management perché mi ha consentito di acquisire delle conoscenze per gestire e motivare al meglio il mio team soprattutto in situazioni difficili e stressanti. Grazie a tutti!